Oggi alle 16.30 andrà in onda una nuova puntata del Segreto, in cui assisteremo alle nuove preoccupazioni di Donna Francisca, la Montenegro, infatti, inizierà a dubitare della salute mentale di Amalia, sempre più fuori controllo. Intanto Mauricio, per proteggere la sua signora dai nuovi vicini, si mette nei guai, a seguire le anticipazioni nel dettaglio di ciò che vedremo. Mattias promette a Alfonso e Emilia che cercherà di pensare più allo studio e meno alle ragazze. Melcor va a bere la locanda, vuole stare da solo, ma Bosco lo raggiunge. Francisca è preoccupata per Amalia, più per la sua freddezza, che si avvicina alla psicopatia, che per il suo stato di salute. Mauricio si introduce nella tenuta di Severo, ma Carmelo lo affronta e lo mette al tappeto. All'ultimo momento, Melcor decide di non raccontare niente a Bosco, a paura di sua figlia.